Sono un amico di una vita. E' molto difficile parlare perché, tu capite, la comprensione sale alla nuova. Mi viene un morto. Bruciamo anche un grazie. Per l'allegria, per l'amicizia, per l'amore, per l'indeligenza, non si è mai stato banale. Hai condiviso con me moltissimi momenti e io ti sono molto pianta. Voglio dire solo che Luciano è stato un grande artista, è stato un filosofo, non ha divulgato solo la filosofia. Il bene è il dubbio. Se una persona ha dei dubbi vuol dire che è democratico e tollerante. E mai in un periodo così in questa casa è utile. Se incontrate quelli che hanno le certezze, la fede è incollabile, vi dovete mettere droga. Perché la fede è violenza. La fede in qualunque cosa è violenza. Luciano, grazie per la tua amicizia. Io non ti dimenticherò mai. Grazie.